Calano i contagi in Campania ma esplode la variante Delta, i casi registrati nel territorio dell'ASL Napoli 3 Sud. Preoccupa il focolaio di Torre del Greco, 44 infetti in una settimana. Ad Agerola invece i 5 positivi si sarebbero infettati in una palestra, coinvolgendo due nuclei familiari. Un solo caso invece a Napoli sono i dati che emergono dal piano di sorveglianza sui ceppi virali condotto dall'Istituto Zoprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, azienda ospedaliera dei Colli e il TGEM. Presenti dunque 170 varianti inglesi, 82 indiane, 36 brasiliane e 6 colombiane concentrate a Laurino, in Cilento, in una comunità di religiosi. Altre 23 europee e 4 di origine incerta. E già allarme nel mondo del turismo, disdette voli cancellati denunciano albergatori e tour operator. La questione solleva ancora la polemica sulle mascherine dopo l'ok del CTS. Dal 28 giugno a toglierle all'aperto, per il governatore Vincenzo De Luca, non è l'abbandono dei dispositivi a segnare la riapertura. I cittadini invece sono divisi. Credo che a prescindere dal Covid sarebbe buona abitudine utilizzarla lo stesso. Diciamo per noi ragazzi sarebbe più comodo togliere la mascherina, ma sinceramente bisogna sempre fare attenzione con o senza mascherina. C'è chi però è felice di una maggiore libertà. Un po' di libertà, le persone possono respirare questo caldo. E chi la vuole togliere la toglie completamente, per sicurezza chi la vuole tenere la tiene. Speriamo che presto ci tolgono il bavaio, purtroppo la situazione è complicata. Come fa?